Per quasi 150 volte non ha pagato il pedaggio al casello dell'A26 della barriera del Lago Maggiore, condannato a 5 mesi e 200 euro di multa per truffa, uno solano, ST le sue iniziali. L'uomo alla guida di una Twingo passava indisturbato dal casello senza pagare, per questo è stato registrato da Autostrade per l'Italia. A inizio 2016 però il sistema informatico del casello ha fatto scattare un sistema di controllo per gli utenti recidivi e sulle sue tracce si è messa la polizia stradale di Romagnano che ha fermato l'auto e accertato che fosse proprio lo solano al volante. È finito quindi a processo per i mancati pagamenti tra giugno 2015 e febbraio 2016 per un importo totale di oltre 1200 euro. La PM Anna Maria Rossi ha chiesto la condanna a 7 mesi e 200 euro di multa, il giudice Donatella Banci Buonamici ha deciso per 5 mesi e 200 euro di multa. L'uomo dovrà anche risarcire Autostrade per l'Italia che si era costituita parte civile al processo. Il processo fondamentale per la condanna è stato il riconoscimento da parte della polizia stradale di Romagnano Sesia. In un caso precedente infatti l'automobilista Moroso era stato assolto perché non c'erano prove che fosse stato lui alla guida del mezzo che passava il casello senza pagare il pedaggio.